ORE UNDICI E UN QUARTO MAGNOLIA Vabbè qualcuno che gioca a bigliardo c'è? Pista? Desolata? Secondo lei a che ora arriverà la gente? Ma più o meno tra un'ora e mezza E quindi in questa ora e mezza che cazzo facciamo? 23.35 persone nella pista Un buttafuori La cosa positiva è che la musica comincia a pompare Sì Perché gente non se ne vede ancora Non è entrata la persona da più o meno 20 minuti Non c'è neanche più nessuno che gioca a calcetto Questa è una tragedia Esatto Anche qua Forse stavi parlando cosa Tipo Il giapponese del gruppo No Sì ma fondamentalmente dirò questa cosa Sono le mezzanotte E mezza E tendenzialmente Non si vede Perché è buio Però un po' di gente ha riempito il locale Ma di che la pista è vuota La pista è vuota E poi E poi Che Che Sì La musica è liquida, non si vende più un disco La musica è liquida, non si vende più Non ci state dentro, cazzo Ma basta a mordermi, non sono mica una cosa da mangiare Mamma mia Lu! La musica è liquida, non si vende più 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 guarda che carine guarda ultimo va beh un bacio però ci stava dentro fatto bene però noi non siamo guarda che noi non siamo anzi cazzo cosa noi siamo e non siamo avete capito? avete capito un'intera perché voi sei coglioni allora è un video? è una birra la birra? guarda io ho perso una birra stasera no allora io ho perso due birre Dalla come stai? bene se voi ci fermiamo a mangiare tanto lì c'è un baracco basta dire io ho perso una birra no devo fare due calcoli io quando ti sento parlare di birra giro ci possiamo andare andiamo? andiamo